Salve ragazzi, benvenuti al canale, oggi ragazzi, secondo appuntamento qui su Farming Simulator 22 nella splendida mappa Haute Baileron, ma non mi ricordo mai purtroppo come si chiama, prima che imparerò questo nome probabilmente sarà già ben finita la serie, ma comunque va bene. Benvenuti ragazzi, benvenuti, siamo qui in questo appunto primissimo gameplay qui su questa bella mappa francese, lo scorso episodio se così vogliamo chiamarlo abbiamo visto in linea generale tutte quelle che sono le novità o comunque in generale il negozio, un pochettino anche la mappa e tutto il resto. Purtroppo non posso vedere cosa mi avete scritto nei commenti perché sto registrando un po' di seguito, di fila, quindi è lo stesso giorno, quindi insomma vedremo poi passo passo, magari poi il prossimo episodio, commento anche un po' i vostri commenti. Allora in questo episodio cosa facciamo? Beh sicuramente andiamo a partire con le varie lavorazioni che ci sono in questa bella mappettina, ricapitolando però volevo farvi solamente vedere quali sono gli oggetti che abbiamo posseduto noi attualmente, ovvero lo Steyr che ha 135 cavalli, poi abbiamo come trattori medi il Valtra e il Massi Ferguson rispettivamente 190 e 170 cavalli, poi abbiamo la raccoglitrice da 310 cavalli e la Deusfar, abbiamo un'auto, abbiamo come carrello questo qua che credo che andremo subito a cambiare, il coltivatore Rabe che credo che andremo a cambiare, questa invece la voglio provare perché è nuova, non l'abbiamo mai vista e tutto il resto direi che possiamo tranquillamente anche tenerlo perché alla fine sono anche dei bei mezzi sinceramente. Sono un po' indeciso per la raccoglitrice però dato che costano un po' io per il momento l'atterrei sinceramente e direi che possiamo anzitutto partire con, allora attacca, sentite anche i sound eh, vi ho alzato un pelino il volume eh, perché ho visto che nello scorso episodio era un pelino bassino, però devo dire che veramente ha il suo perché, sentite proprio tutti i rumori, sound. Allora partiamo un attimino, voglio vedere un attimino com'è la situazione campo, scusate i piccoli lag però purtroppo non è colpa mia, guardate come scende la paglia, che bellezza, tutto andane di paglia, ovviamente la paglia la andiamo a raccogliere tutta, la andiamo a stoccare in quel fienire che abbiamo qua davanti a noi, bellissimo. Se io metto l'operaio, posso mettere un operaio? Beh assolutamente sì, questo dovrebbe essere frumento? Frumento sì. Allora, vediamo un po' la paglia, beh la texture della paglia, devo essere sincero la texture mi sembra più o meno simile, molto simile, se non addirittura uguale. Però come esce dalla mia T3 è decisamente diverso, molto più realistico. Ho già preparato anche il carrellino qua con lo stayer e direi che possiamo switchare fra i mezzi. Ah, a proposito, ho scaricato anche un paio di mod, volevo farvele vedere. Ho scaricato praticamente il Fiat 1300, che c'è già inserita come mod all'interno della sezione mod, e poi un'altra per, vabbè, fare le miniature, che sarebbe la player action camera che mi permette di alzare, abbassare il personaggio, muovermi un po' come voglio, insomma. Ok, allora, qui abbiamo, come detto, il rabe. Bah, sto rabe, che facciamo? Lo vendiamo? Ma io lo venderai sto rabe, non è che mi piace più di tanto sto coltivatore, eh? Direi che va più che bene. Allora, compra, 10.000, ok, e mi vado a restituire, a rivendere, anzi, questo coltivatore qua che lo vendiamo per quasi 10.000, quindi, allora, fondamentalmente non ci abbiamo perso, non ci abbiamo perso nulla. Ehm, scendiamo, dobbiamo andare praticamente verso il negozio. Allora, comparto operaio, dobbiamo fare praticamente su vai e andare su qua. Ok, in teoria l'operaio dovrebbe adesso andare, sì, esattamente. Ehm, credo che attualmente l'unica cosa che posso andare a seminare sono... Vediamo un po', la colza dovrebbe essere, vediamo un attimo. Sì, esatto, perché siamo in agosto, quindi è la colza. Vabbè, io farei una cosa, dato che dobbiamo trebbiare, mi vado a seminare intanto la colza. Poi, switchiamo appena finisce il frumento di essere raccolto, andiamo alla giornata successiva, quindi andiamo a settembre e seminiamo il frumento. Parti con la colza, così intanto lo faccio partire. Quella sta procedendo bene, io direi che possiamo fare un'altra cosa, va quasi quasi. Andiamo qua, andiamo su auto, tanto l'auto, io che me ne faccio, sinceramente mi racimolo un po' di soldini. E quasi quasi mi venderei anche il carrello. Ehm, sì dai, perché non mi piace sto carrello, voglio un carrello normale, perché sennò non riesco mai a fare le retromarce. Allora, carrelli, il primo di tutti è questo qua, il belger, il belger. Vediamo un attimino cosa riusciamo a trovare. Ah, bellissimo il fatto che adesso non segna più la quantità in litri, ma in metri cubi. Allora, direi raga che ho scelto, me ne vado verso questo class, Karat 140TD. Lo prendiamo da 22.5 metri cubi, perché sennò ci sarebbe anche standard da 12.6, però 22.5 non è male. Io ho la targa per tutti i nuovi mezzi che andrò a prendere, me la terrò personalizzata. In questa maniera. Primo acquisto, eh raga? Primo acquisto. Allora, sì, ok. Va bene, ci siamo acquistati sta roba qua, perfetto. E abbiamo ancora 124.000 euro, bene. Nel frattempo questo è pronto. Caspita, ho tenuto il peso, se no mi potevo portare tutte e due indietro. Vabbè, va bene. Bello l'arieggiatore. Devo dire molto più possente rispetto a quello che era quello del 19, eh. Allora, dobbiamo andare praticamente verso casa. Direi che possiamo andare, questa volta però voglio andare io manualmente, per vedere anche un attimino qual è la strada, verso quello che è lo shop, il negozio. Ok raga, eccoci arrivati. Adesso ci carichiamo il nostro bel cassone della classe. Uh, si sente anche il peso, eh, comunque. Adesso percepisco anche il volante, è diventato molto più duro. Si percepisce anche il peso del cassone. Quindi vorrei vedere poi come risulta se il cassone diventa poi carico. Adesso fa, devo dire, fa davvero fatica, eh. Fa davvero fatica. Caspita, ma interessantissima sta roba qua. Allora, eccoci qua. La trebbia ancora non ha finito. Però io intanto glielo lascio qua. Sì, forse ha finito? No. Vabbè, lasciamola qua perché tanto sicuramente dovrò spostarmi. Ok, lo mettiamo qua. Vediamo un attimino come se la cava. Vediamo un po'. Ok, perfetto. In teoria l'arieggiatura... Esatto, mi fa andare... Ah, no, non mi fa andare via. Ah, sì. Mi fa andare via l'aratura. Come vedete, in questa passata qua l'aratura non c'è. E in teoria dovrebbe segnarmi che è coltivato. Adesso, per essere sicuro, voglio andare a vedere. Perché non so se funziona nella stessa maniera. Coltivato. Esatto. Però non richiede più l'aratura. Perfetto, allora funziona come sul dici. Benissimo. Allora, già che questo è al 97%, fermiamolo. E facciamo scaricare il nostro bel operaio. E via, credo che foto sia stata di rito, raga. Prima foto, prima foto di copertina di questo splendido Farming Simulator 22. Ottimo. Adesso questo lo dobbiamo rimettere praticamente a lavorare. Quindi andiamo di qua. Devo essere sincero, il fattore di avere... Frizione, cambio. Ogni singolo gameplay diventa stancante. Per il momento questo primo gameplay mi piace così. Ma mi piace anche vedere anche la webcam con il volante. avere anche questo con tutte le manovre che devo fare ho paura che mi rimanga un po' difficile. Adesso poi comunque vedremo. Mi vado a prendere praticamente un raccoglipaglia, un cassone da carico quasi quasi. Ok, nel frattempo questo va. Nel frattempo che questo va... Oh, comunque no, no, dai. Devo togliere un attimino il traffico, raga. Perché il traffico mi sta dando un po' di problemi, eh. Mi sta veramente dando un po' di problemi. Quindi facciamo traffico. No. Ok. Ok, salva. Perfetto. Così almeno non abbiamo più il traffico. E almeno il trattore va liscio e tranquillo. Allora, dicevamo che proviamo a prendere un cassone da carico. Allora, cassoni da carico. Abbiamo quello meno costoso che è praticamente costosissimo. Cioè 30.000 euro. Perfetto. E lo compriamo per la bellezza appunto di 30.000 euro e mezzo. Va bene. E un po' però... Pazienza. Ci voleva. Ci voleva per forza perché voglio iniziare... Poi è quando sarà periodo di vendere la paglia ovviamente, raga. Quindi queste cose di base assolutamente... Piuttosto ci facciamo qualche prestito. Essendo comunque la prima serie ci sta che ci sia un po' di prestito. Poi sicuramente quando verranno introdotte altre mod... Beh, era introdotto anche il comune che ci segue fino a qua, fino a Farming Simulator 22. Quindi poi sarà un po' più semplice la circostanza. Per il momento ci faremo un po' di debiti al limite. E va bene lo stesso. Va bene, andiamo a vedere di raccogliere sta paglia. Tanto mi sembra che la Trebbia ancora stia andando. Lì sta seminando, qua sta arieggiando. Poi dovremo andare a togliere i sassi. Ma penso che il togli sassi, da quello che mi avete detto voi, da quello che ho visto anche tra i vari gameplay che sono usciti, Devo dire che ho visto che non si vende molto. Quindi non so se andremo a farla sempre come lavorazione oppure no. Devo capire però se potrebbe creare problemi l'avere i sassi in campo. La cosa attualmente secondo me più brutta, devo essere sincero, è il fatto che non ho il regolatore di velocità tramite mode. E quindi mi tocca per forza di cose andare a fare le lavorazioni con la velocità di base. E non ricordavo infatti che i mezzi andassero così piano. Tipo la Trebbia io non ricordavo affatto che andava a 10 km orari. Pensavo andava veramente un po' più veloce. Cioè almeno 15-17 km. Invece va lentissima. A quest'ora con quella mode lì avrei finito da tipo 10 minuti. Però va bene dai. Adesso questi sono i primi gameplay. Ci sta che sia tutto un po' più lento. Sia tutto un po' più... Insomma. Non dico noioso però un po' più macchinoso direi. Comunque è finito la Trebbia. Comunque è finito. Ovviamente raga io non me li sto a spiegare. Non me li sto a illustrare. Però godetevi anche quelli che sono i dettagli. Non solo dei mezzi, degli attrezzi. Ma anche proprio dell'ambiente. Degli animali che circolano nell'ambiente. Tipo i corvi. Oppure che ne so i cerviatti. O tante altre robe. L'erba. Anche solo l'erba c'è una texture veramente fantastica. Anzi sarei curiosissimo. Anzi credo che già in questi episodi. In questa prima settimana andremo anche già a vedere l'erba. Perché sono curiosissimo di falciare. Vedere un attimino come... Come va anche con l'erba insomma. Vorrei farvi sentire anche comunque i sound eh. Sentite qua il sound della turbina qua che porta in alto la paglia. E il sound proprio della anche del... Cassone da carico. Sentite un po'? Che bellezza appena si chiude. I pistoni. Come si sente che fanno fatica a chiudersi. Se poi c'è da vendere. Già vendiamo. Non credo perché essendo periodo di trebbiatura di solito si vende nel periodo invernale. Queste cose qua si vendono. Allora scarichiamo il restante frumento. Volevo intanto vedere com'era la texture del frumento. Appunto dei chicchi di frumento nel cassone. Bellissimi. Bellissimi. Texture stupenda. Veramente. Rispetto al 19 è stato fatto veramente un salto di qualità eh. Ok. Volevo farvi vedere anche nel frattempo che andiamo la visuale in prima persona della trebbia con la lama attaccata. Facciamo giusto una panoramica. Guardate quanto è carina sta trebbia. Adesso volevo parcheggiarmi lì in fondo. Vicino proprio al carrello. Credo che il carrello lo venderemo comunque eh perché almeno io non lo utilizzo davvero poco. Andiamo verso casa. Allora ho dovuto fare un piccolo cambiamento. Ho tolto il manuale con frizione raga. Perché il freno funziona qua su farming funziona un po' stranamente. Quindi non frena tanto bene. Quindi preferisco tenere il freno sull'asse della frizione e la frizione non averla e cambiare solo le marce con il con il insomma con il cambio. Che comunque si può lo stesso fare. Perfetto. Abbiamo scaricato tutto. Molto bello il cassone quando scarica. Voglio vedere se a questo punto infoprezzi. Allora. Da quello che ho capito. Da quello che mi è stato spiegato dal collega. Perché ci siamo sentiti tra il primo episodio di ieri e questo primo episodio di oggi. Allora praticamente c'è la sezione magazzino che ti permette di vedere qualsiasi tipo di cultura e o produzione o qualsiasi altra roba. E in base a quello poi ti fa vedere i tre, quattro, cinque quelli che sono punti di vendita. In questo caso di frumento abbiamo quattro punti vendita. Ma potrebbe esserci neanche solo due. Tipo guardato sulla paglia. A tipo il fieno c'è solo un punto vendita. L'erba c'è solo un punto vendita. In base poi a ovviamente i punti che ci sono nella mappa. Queste sono le stazioni di vendita appunto. I punti vendita. Schiacciando spazio si può vedere le fluttuazioni che ci sono durante il corso dell'anno. In questo caso siamo ad agosto e il prezzo è in decrescita. È un prezzo comunque basso. Conviene vendere praticamente a gennaio. È un pochettino come la season del 19. Anzi è identico. È lo stesso procedimento. Ti fa vedere durante la stagione il prezzo più alto e il prezzo più basso. Ok e ripartiamo di nuovo con la raccolta della paglia. Volevo farvi vedere anche dall'interno questo bello stair che mi sembra che avete già visto. Ma che un altro sguardo secondo me è ben più che accetto. Guardate che meraviglia. Qui da dietro la visuale del raccogli paglia. Molto molto bello. Ok iniziamo a raccoglierci sta paglia. Ok raga e altro carico è stato fatto. Mi sono andato a fare un po' di carico io. Un po' realisticamente eh. Tutto dall'interno. Tutto col volante. Ora ovviamente adesso dobbiamo scaricarlo. Qua al nostro bel Fienile. Allora andiamo a eliminare ancora sto pezzettino qua. Bella anche la texture dell'aratura comunque eh. Molto bella. Molto bella. Comunque poi la vedremo bene prossimamente. Bene. Per il momento il campo è stato tutto completamente arieggiato e completamente coltivato diciamo. Sia arato che coltivato voglio dire. Prossimo episodio credo che ci andremo a occupare della calce viva e andiamo a seminare gli altri due campi. Per il momento abbiamo seminato quello poi gli altri due li andremo a seminare prossimo episodio. Comunque credo che vi faccio molto volentieri anche un bel timelapse così vi godete un po' di raccolta di paglia. Boh ci vediamo alla fine del campo. E' ok raga allora ho raccolto tutta quella che è la paglia dovrebbe essere riuscito a uscire un altro carico. Si praticamente si anzi direi proprio di si benissimo anzi è rimasto giusto ancora un pochettino ma va bene così. Ok perfetto raga allora direi che possiamo fare una roba un po' intelligente nel senso qui abbiamo dello spazio che possiamo usufruire per andare a inserire un altro capanno. Perché un capanno solo direi che non è sufficiente per quello che dobbiamo fare noi. Quindi andiamo praticamente su altro costruzione e andiamo praticamente seleziona e andiamo a inserire un capannone. Allora capannoni ce ne davvero parecchi addirittura ci sono capannoni che mi ricordo che erano ad esempio questo qua. Io mi ricordo che era nel dlc alpino se non mi ricordo male o comunque era una mod. Cioè molti sono mod che hanno che sono state convertite per il 22 cioè che sono state rese di base più che altro sul 22. Ok perfetto ragazzi sono andato a inserirlo perfetto benissimo intanto volevo farvi vedere ci sono anche io qua non riesco a farvelo vedere ma va bene. Ok ah c'è anche la progettazione del paese ah interessante poi tutte le decorazioni e beh poi dovrò andare a inserire un po' di cose un po' di stacionate un po' di roba poi la dovremo andare a inserire. Ecco guardate quanta roba che c'è con calma con calma vedremo tutto guardate tantissima roba allora l'ho inserito giusto perché cioè c'è se non troppa troppo poco spazio comunque penso che ne andrò a inserire poi anche un altro eh. Per il momento uno va bene poi al limite vedremo ok manovra perfetta veramente perfetta o quasi perlomeno ok e questo lo lasciamo qua benissimo questo è il nostro bel capannone. Capannone prima costruzione messa bellissimo anche devo dire fatto davvero anche molto bene ok perfetto così qua mettiamo poi tutte le attrezzature da fienagione qua devo dire stiamo messi abbastanza bene qua devo dire stiamo messi comunque abbastanza bene tempo di terminare. A questo punto vorrei fare una prova io allora faccio una prova io raga voglio vedere un attimino come si semina con questo bellissimo questa bellissima nuova attrezzatura questo valtra che vorrei vedere anche gli interni se è possibile. Vediamo un po' bellissimo anche dall'interno è molto molto bello devo essere sincero eh. Qua ovviamente poi ci occuperemo della colza eh e delle altre semine ovviamente nel prossimo episodio adesso volevo giusto fare una prova comunque direi che per questo primo episodio raga possiamo salutarci guardate intanto il camion il sì il camion il treno che passa in lontananza che poi sicuramente più avanti ci servirà. Detto ciò raga io vi ricordo come sempre che in descrizione potete trovare tutti i miei link utili compreso ovviamente il link per comprare qualsiasi gioco scontato questo o anche tanti altri giochi scontati insomma ovviamente io non andrò avanti col gioco o insomma con le varie lavorazioni per questo primo episodio è tutto un grosso saluto e ovviamente ci vediamo al prossimo video accidenti ciao a tutti raga ciao ciao. Ciao a tutti.